Un cordiale saluto dalla redazione di Florence Multimedia, in studio Marco Gargini. Iniziamo dalla FIPILI dove per lavori ci sono un chilometro di coda tra Ginestra Fiorentina e Montelupo Fiorentino in direzione Livorno e un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. Si ricorda che si tratta di lavori per il miglioramento della sicurezza tra Montelupo e Ginestra con restringimenti, percorsi alternativi sulla strada provinciale 12 o per i viaggi più lunghi sull'autostrada 11. Per lavori è chiusa l'uscita di Tirregna provenendo da Firenze. Per il momento invece il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale Toscana. Sul raccordo Siena-Firenze possibili disagi per uno scambio di carreggiata tra San Casciano Nord e Impruneta in direzione Firenze. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio! Grazie a tutti!